Ho inventato una trappola assurda per WhatsApp. Apri l'app, comandi rapidi, clicca sul più, aggiungi azione, cerca scatta foto, imposta anteriore, clicca qui e cerca imposta foto sfondo. Ora clicca qua ed imposta lo sfondo che stai attualmente usando. Infine, aggiungi blocca lo schermo, clicca qui, disattiva, clicca qui e disattiva tutto. Esci, salva l'icona di WhatsApp da internet e tornando qui, clicca qui sotto, aggiungi alla schermata home, come icona scegli questa e infine qui scrivi WhatsApp, aggiungi, sostituisci l'applicazione originale con quella falsa. E adesso state a vedere, quando qualcuno proverà a spiarvi di nascosto, la prima cosa che sentirà è lo scatto di una foto, poi lo schermo si bloccherà e la sua foto verrà impostata in bella vista come blocco schermo. Ovviamente non ci sarà possibilità di rimuoverla, non vedo l'ora che qualcuno ci clicchi.